Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo primo fine settimana, dopo il ritorno della campagna in zona russa, il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anti-covid. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.542 persone e attività commerciali, 127 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato, come di consueto, soprattutto Napoli-Città, a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, via Chiaia, i Decumani e il Vomero. Più in dettaglio, il dispositivo composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi delle compagnie di Torra Annunziata e Giugliano, tra i quartieri Barra, San Lorenzo e Chiaia, in piazzetta Nilo, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, Corso Umberto e via San Biagio dei Librai, ha sanzionato 14 tra i riducibili no mask e persone in strada, senza validi motivi. A carico di uno di questi è stato operato anche il sequestro di 3 kg di sigarette di contrabbando. Anche all'esterno dell'area portuale, il secondo gruppo, durante tutto il fine settimana, ha sanzionato 9 persone sorprese in strada, senza comprovati motivi e fuori dal proprio comune di residenza. Altre sanzioni anti-covid, anche in provincia, tra San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Qualiano, Ischia, dove le fiamme gialle hanno sanzionato decine di soggetti senza mascherina, ovvero trovati in strada durante il coprifuoco. Inoltre, tra Caivano, Fratta Minore e Crispano, sono state sanzionate 30 persone in strada senza un valido motivo, sequestrando a carico di 4 di essi marijuana, cocaina ed eroina. Infine, tra Nola, Pompei e Barano d'Ischia, anche grazie a segnalazione di cittadini pervenuti alla sala operativa del comando provinciale, sono stati sanzionati internet point e sale scommesse in funzione aperte al pubblico nonostante i divieti.